Occhi ancora saldamente puntati sulla stabilità dei ponti dopo il crollo del viadotto Morandi a Genova. Lunedì alla cittadella regionale l'assessore alla logistica franco-russo ha programmato un incontro per fare il punto sulle infrastrutture regionali. La medesima attenzione è riservato al sorvegliato speciale il ponte Bisantis di Catanzaro, nato da un progetto di Riccardo Morandi, padre dell'omonimo viadotto crollato a Genova. Il prefetto ha riunito la conferenza provinciale permanente per compiere un'analisi delle infrastrutture provinciali. Al termine del vergice è stata ribadita l'assenza di qualsiasi rischio per il ponte Morandi che da mesi è oggetto dei lavori di manutenzione da parte di ANAS, la quale ha annunciato una stretta sui controlli. Dal novembre dello scorso anno è in vigore un'ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti, per la verità finora poco rispettata. È stato annunciato quindi l'avvio di una nuova serie di controlli da parte di ANAS, della Polizia Municipale e della Polizia per impedire il transito ai veicoli che superano i 35 quintali. Limitazione che andrà però rivista ad ottobre con l'avvio della seconda tranche dei lavori. Nel momento in cui andremo a montare la seconda impalcatura, quindi penso da ottobre, probabilmente andremo a impedire il transito ai bus, non tanto perché c'è un pericolo sulla stabilità, ma per ridurre le vibrazioni e rendere più agevole il lavoro degli operai sotto la struttura, in mezzo alle impalcature, e per evitare che la struttura venga sovraccaricata eccessivamente dal cosiddetto effetto vela che le stesse impalcature andranno a realizzare.